Buongiorno, mi chiamo Emanuele De Nobili, sono un medico che si occupa di medicina anti-aging e ho il piacere di essere il direttore sanitario del Longevity Medical Center Villa Eden di Merano. L'anno scorso, approfittando del lockdown, mi sono iscritto alla scuola di alta formazione in epigenetica, nutrizione biofisica, su invito dell'amico Giorgio Terziani e con mio grande stupore ho appreso un mondo che prima non conoscevo, tutta la parte di biofisica, biofisica quantistica. Ho terminato il corso, ho fatto l'esame a fine novembre e mi sono avvicinato a questo mondo ed avendo chiaramente una grossa affluenza nel mio centro di persone che mi richiedono una medicina personalizzata. A fine aprile di quest'anno mi sono deciso a fare l'acquisto di questo fenomenale apparecchiatura, dispositivo medicale, l'S-Drive, che con il semplice utilizzo come biomarker di 4-5 bulbi dei capelli, mi permette in soli 12 minuti di ricevere tutta una serie di informazioni epigenetiche, sia ambientali, sia di vitamine, minerali, antiossidanti, rapportano degli acidi grassi omega 3 e omega 6 e questo mi permette appunto di dare una medicina personalizzata. Vi posso dire che l'ho acquistato a fine aprile, maggio tempo di fare qualche esperienza con il personale della mia clinica, con giugno sono partito e ad oggi ho più di 250 test eseguiti, il che mi ha permesso chiaramente lavorando su tutto questo materiale di acquisire anche, senza voler peccare di falsa modestia, di una buona esperienza e come dire, sono quelle cose che quando inizi non torni più indietro, anzi mi aspetto di volta in volta che ci siano aggiornamenti e ho visto proprio anche in questi due giorni che adesso partirà il nuovo report Child and Baby che chiaramente permetterà a tutti noi di ampliare anche l'offerta per la nostra clientela, soprattutto anche quella magari che è più importante far partire con la prevenzione già nei primi anni di vita, per cui mi raccomando dopo avrete sentito il mio video, informatevi sul dispositivo e iscrivetevi alla scuola e iniziate ad utilizzarlo, vedrete rimarrete fortemente sorpresi delle informazioni che vi può dare il sistema. Grazie, un saluto a tutti!